Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi giro il Mid-Year Book Tag, quindi un book tag che ci permette di fare un recap, una valutazione delle letture fatte fino ad ora. Ok, il titolo dice Mid-Year, quindi dovrebbe essere fatto a giugno, cioè a metà dell'anno. Siamo alla fine di luglio, però poco importa, arrivo un po' tardi, però alla fine insomma, soltanto di un mese, quindi mi perdonerete. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Miglior libro letto fino ad ora quest'anno. Il libro più bello che ho letto quest'anno sicuramente è Cambiare l'acqua ai fiori, di Valérie Perrin, che, lo sapete, è stato un libro meraviglioso e forse è uno dei libri più belli letti durante tutta la mia vita. Veramente è stato stupendo. Una bellissima scoperta e se siete curiosi di sapere qualcosa in più su questo libro, ho dedicato un intero video a questo e l'altro titolo pubblicato in Italia di questa autrice, ovvero il quaderno dell'amore perduto. Vi lascio in descrizione il link per poter vedere quel video se siete incuriositi. Vi basti sapere che comunque è un libro bellissimo che, credo di poterti dire già da ora, sarà il più bello dell'anno. Peggior libro letto fino ad ora quest'anno. Il libro più brutto letto quest'anno è Il Testamento di Nobel. Anche questo, ovviamente, se avete seguito i miei video sulle letture, lo sapete, insomma, perché ne ho parlato in maniera un po' più approfondita. Comunque è un giallo, ma non mi è piaciuto perché non è il primo di una serie. In realtà fa parte di una serie di libri con questa protagonista. Però tendenzialmente questo genere di libri gialli con lo stesso protagonista e tanti libri, tante avventure, non ti obbliga a leggere i libri in ordine dal primo all'ultimo. In questo caso sì, perché dava per scontato che io conoscessi già tutti i personaggi, che io conoscessi la storia della protagonista, quindi quello che le era accaduto prima. Non ci sono riassunti, ecco, per aiutare un lettore che arriva per la prima volta in questo libro. Poi una storia che non era accattivante, un po' lenta, il finale mi ha delusa, quindi non c'è molto da dire. Alla fine l'ho finito, però non è stato un giallo che mi abbia tenuta incollata alle pagine, assolutamente, quindi direi il peggiore letto finora quest'anno. Quanti libri hai abbandonato senza averli finiti? Ho abbandonato soltanto un libro, La Ciociara, di Alberto Moravia. me l'aveva dato la mia mamma, quindi avevo una versione super vintage, proprio il classico con le pagine completamente gialle, però non lo so, la storia non mi prendeva più di tanto, forse non era il momento giusto per leggerlo, non c'erano tanti dialoghi, quindi era una lettura che richiedeva un po' di tempo, ecco, per essere assorbita completamente. un formato forse non proprio agevole, perché era un libro minuscolo, scritto con delle lettere microscopiche che arrivavano da bordo pagina a bordo pagina, quindi mi sono accorta che non avevo mai voglia di leggerlo, che stavo prolungando la lettura all'infinito e quindi ho deciso di abbandonarlo. Miglior graphic novel, fumetto, manga, letto fino ad ora quest'anno? Nessuno, perché non ho letto nessun fumetto o manga e non leggo quasi mai graphic novel e per il momento quest'anno non ce n'è stata nessuna che sia entrata a far parte della mia libreria. Quanti libri sono entrati a far parte della tua libreria dall'inizio dell'anno? Non molti, perché mi sto dedicando a terminare i libri che erano ancora in libreria e dovevano essere letti e diciamo che ci sono praticamente riuscita, tanto che al momento sto leggendo via via quelli che acquisto, quindi insomma ho acquistato all'incirca 7-8 libri dall'inizio dell'anno e li ho quasi tutti già letti, quindi sono molto orgogliosa di me. Di quanti libri ti sei liberata dall'inizio dell'anno? Purtroppo nessuno, perché io solitamente utilizzo due metodi per liberarmi dei libri che non desidero tenere in libreria e sono o rimenderli ai mercatini dell'usato e purtroppo sapete che con questa situazione tutti i mercatini che venivano fatti nella mia zona sono stati annullati oppure facevo qualche giveaway a volte, però adesso sono entrate delle norme un po' particolari, bisogna stare molto attenti, non siamo più liberi di fare giveaway sui vari social come si poteva fare una volta e quindi alla fine non mi sono mai presa la briga di guardarmi tutta la normativa e capire come potrei fare. Quindi per il momento i libri che non ho intenzione di tenere sono tutti su uno scaffale della mia libreria in attesa di trovare una nuova sistemazione, una nuova casa. Sto pensando di metterli su Vinted, in realtà chiaramente ad un prezzo molto basso proprio per fare in modo che trovino per l'appunto un nuovo padrone, una nuova casa. Però non so, voi cosa pensate? Sareste interessati a vedere i titoli che possegue a comprarli eventualmente su Vinted? Fatemelo sapere così magari nelle prossime settimane li metterò in vendita. Quale pensi sarà il tuo prossimo acquisto? Credo che il mio prossimo acquisto sarà The Modern Cook di Xaba, ormai la conoscete, è piuttosto famosa su Real Time, su Food Network, quindi insomma ormai è un personaggio pubblico piuttosto famoso. Mi piace molto, mi piacciono le ricette che condivide nei vari programmi che conduce e so che appunto ha scritto un libro che contiene oltre 100 ricette, tutte molto semplici e stagionali, quindi proprio come piacciono a me, però al momento sono un po' indecisa perché il libro costa più di 30 euro. È recensito benissimo, però appunto è una spesa un pochino più sostanziosa, quindi ci sto pensando, però credo che sarà il mio prossimo acquisto. Libro esteticamente più bello che hai comprato o ricevuto quest'anno? Credo che il libro più bello esteticamente che ho comprato quest'anno sia i quaderni botanici di Madame Lucie di Melissa d'Acosta. Ha una copertina meravigliosa, non vi sto a parlare della trama perché lo sto leggendo e poi insomma ne parleremo nei video delle letture, ma la copertina mi piace moltissimo, questa casa immersa nel verde che si apre perché insomma al suo interno sono nati dei bellissimi fiori. Per me è una copertina incantevole che ovviamente insomma con la natura protagonista mi ha subito attratta. Libri usciti di recente, non ancora letti, ma che vuoi leggere? Ci sono tre libri usciti di recente e che vorrei leggere. Il primo ce l'ho qui con me ed è La vita segreta di Maud Dixon di Alexandra Andrews. Questo libro l'ho comprato in libreria da pochissimo, quindi so che è un'uscita piuttosto recente, con una trama molto accattivante e quindi insomma non vedo l'ora di leggerlo, credo che sarà la mia prossima lettura. Il secondo libro, anche questo uscito recentemente che vorrei leggere è Tre di Valérie Perrin, ovviamente perché mai sapete che è diventata una delle mie autrici preferite. Ho letto gli altri due suoi romanzi usciti in Italia, quindi non potrei mai perdermi quest'altro libro. Ce l'ha già la mia mamma, l'ha comprato, quindi aspetto solo il momento giusto per poterglielo rubare e poterlo leggere. Infine mi piacerebbe leggere Tre gocce d'acqua di Valentina Durbano, anche questa uscita recentissima. Valentina Durbano è un'autrice che conosco perché anni fa ho letto un paio di suoi libri che mi hanno completamente conquistata. È un'autrice veramente promettente e in Italia di autrici così giovani e così brave ce ne sono veramente poche, quindi è eccezionale. E poi ho letto che chi ha letto questo libro, dopo averlo finito, continuava a pensarci per settimane. Quindi insomma vuol dire che è una storia veramente intensa e mi piacerebbe poterla leggere. Prossime uscite più attese della seconda parte dell'anno. Allora, di solito io non ho grandissime attese, ecco, nel senso che seguo pochi autori. Mi faccio soprattutto ispirare da quello che trovo in libreria al momento, quindi difficilmente seguo quelle che saranno le prossime uscite e rimango insomma un po' col piatto sospeso finché non ho comprato quel libro. Però se mi conoscete da un po' sapete che il mio autore, del cuore, quello di cui veramente aspetto ogni anno l'uscita del libro è Ken Follett. E anche quest'anno uscirà un suo nuovo libro che si intitola Per niente al mondo. uscirà a novembre di quest'anno, quindi non vedo l'ora che arrivi novembre per poterlo comprare e divorare come ho fatto con tutti i suoi altri libri. Si dice con tutti i suoi altri libri, con tutti gli altri suoi libri, vabbè. Bene ragazzi, le domande finiscono qui. In realtà ho visto che ci sono un altro paio di domande un po', diciamo, forse opzionali, non lo so, in più, che sono state messe alla fine di alcuni video di persone che hanno fatto questo book tag e che in realtà chiedono quanti libri si siano letti fino ad ora e quanti libri si vuole leggere entro la fine dell'anno. Ma ho deciso di evitarle io perché in realtà quest'anno l'ho presa molto con calma, voglio leggere solo quello che mi va di leggere, non mi voglio mettere dei limiti mentali, ecco, con dei numeri da dover raggiungere assolutamente e quindi credo che la lettura poi vada un po' presa così come viene, nel senso che ci sono periodi in cui abbiamo tanta voglia di leggere, divoriamo, non so, 20 libri al mese e dei mesi in cui ne leggiamo uno solo e va bene così. Quindi, insomma, io vi lascio come sempre le domande del tag sotto nell'info box, così anche voi potrete rispondere nei commenti e, niente, non vedo l'ora di scoprire qual è la vostra valutazione dei libri letti fino adesso, quindi da gennaio a giugno-luglio, diciamo. Niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao! Come si fa la copertina? Fai qualcosa anche di più curioso? Sto guardando il telefono. Che faccio e fai quando leggi delle domande, pensi alle risposte? Così, tipo... Sei proprio mamma della figliola, te, eh? Ciao! Ciao! Grazie a tutti.